Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata numero 37 del 2016 di Motor News. Come di consueto nei nostri minuti dedicati al mondo dei motori vedremo diverse letture, diverse novità di questo particolarissimo mondo che è il mondo dell'auto. Vedremo la Mercedes Giro C Coupé con la parola dei responsabili della casa della stella a tre punte in Italia. Vedremo anche la nuova Seat Ateca, Volvo Cars Connect, la nuova frontiera di Volvo che affronta la connettività in automobile, la nuova Citroen C3 Facebook che chiaramente non poteva essere assente in social media nel mondo dell'auto e infine un servizio che riguarda i nuovi motori Ingenium di Jaguar Land Rover. Vediamo allora il primo dei servizi con Paolo Lanzoni di Mercedes-Benz Italia che parla della Mercedes GLC Coupé. GLC Coupé è il nuovo SUV sportivo di casa Mercedes, SUV perché? Perché fin dal nome prende tutta la competenza, l'esperienza, i tanti anni di trazione integrale che sono partiti da classe G perché tutto parte dalla classe G, quindi trazione integrale 4MATIC, GLC Coupé è solo a trazione integrale 4MATIC, tre differenziali meccanici, ovviamente gestibili elettronicamente, alleggeriamo quindi anche il peso della trazione integrale, ideale in tutte le situazioni di marcia. Coupé perché? Perché è sportivo. Dalla linea di cintura alta, il design del frontale e del posteriore, ma anche le prestazioni grazie al nuovo cambio 9 G-Tronic, quindi 9 marce, ovviamente automatico, e i nuovi motori. 170 e 204 CV, i motori diesel 4 cilindri, poi abbiamo anche un 350, un 6 cilindri diesel e poi abbiamo i motori benzina arrivando al 6 cilindri firmato Mercedes-AMG, che sono le nostre truppe d'assalto che rendono ancora più sportivi ed esclusivi tutti i modelli Mercedes con 367 CV. La vettura è già disponibile al listino e in concessionario a partire da 54.300 euro. Mercedes sta lavorando a contenere consumi e quindi emissioni. Il design è uno degli elementi, non è fine a se stesso, ma serve anche per ridurre il coefficiente aerodinamico. Che cosa vuol dire? Evidentemente riduciamo gli attriti, riduciamo anche poi i pesi della vettura in generale utilizzando nuovi materiali oppure l'alluminio che in gran parte è utilizzato su questa vettura e in questo modo riusciamo a contenere evidentemente i consumi. Quindi il coefficiente aerodinamico è solo uno degli elementi su cui stiamo lavorando, su ogni nuovo modello. La gamma di motorizzazione è particolarmente ampia, parte dal 4 cilindri diesel, arriva al 6 cilindri benzina firmata in gay. In mezzo abbiamo una versione, 2 litri, benzina, plug in ibrida, molto importante. Perché? Perché riusciamo ad aggiungere tanti cavalli, più di 100 cavalli elettrici, quindi diamo tanta sportività alla vettura. Dall'altra parte ovviamente diamo anche un occhio molto molto importante ai consumi. La vettura viaggia fino a 35 km in modalità solo elettrica e possiamo anche gestire l'autovettura, la trazione in solo elettrica full hybrid, quindi completamente ibrida, oppure possiamo anche andare a risparmiare l'elettrico perché magari vogliamo avvicinarci ad un centro abitato e poi viaggiare in elettrico con la massima capacità della batteria. La SUV ATTAC di Mercedes-Benz è nata due anni fa, ormai con GLC QP andiamo a completare la nostra gamma dei SUV. Oggi rappresentano veramente un mercato molto importante in Italia e per noi di Mercedes-Benz. Una Mercedes su tre è SUV in Italia. Questo grazie a una strategia molto importante che vede da un lato il prodotto, ma da un lato anche tante iniziative sul territorio. Ad esempio immagino lo ski tour, quindi un tour che stiamo portando in montagna questo inverno proprio per far provare il prodotto. Mercedes è stata la prima al mondo a portare la trazione integrale. Ecco, dobbiamo ricordarlo a tutti perché la trazione integrale significa tanta sicurezza ma anche sportività. L'auto del futuro, soprattutto per noi di Mercedes-Benz, sarà sempre più bella sportiva perché al cuore non si comanda, ma anche ovviamente è molto più attenta ai consumi, alle emissioni. Che cosa significa in una parola? Dobbiamo integrare. Integrare cosa? Integrare l'autovettura con due motorizzazioni, ad esempio nella nostra versione plug-in hybrid da noi integriamo, contaminiamo, accoppiamo a un motore tradizionale, ovviamente un motore elettrico. Ma integriamo anche l'autovettura con i clienti, con il guidatore, sempre meglio, con la propria vita privata e professionale. Così come con l'infrastruttura. Ecco, questa è un po' la parola chiave per il futuro dell'auto, secondo noi di Mercedes. Tra l'altro, GLC Coupe è la migliore espressione di questa integrazione perché integra in una maniera incredibile due competenze. La competenza della trazione integrale di Mercedes-Benz con la sportività tipica di un coupé con la stella. Quindi linea di cintura particolarmente alta, muscolosa, assenza montante centrale nel disegno delle cornici degli sportelli e quindi tanta, tanta sportività che non pregiudica il vano di carico di 1.400 litri. La trazione integrale di Mercedes-Benz si chiama Quattromatic, ma soprattutto tutto nasce dalla classe G. Ancora in commercio e lei dura e pura e da lì parte la competenza, tutte le esperienze che noi abbiamo avuto in questo settore. Ecco oggi, da classe G possiamo dire, abbiamo fatto nascere tanti nuovi SUV. GLC Coupe è solo l'ultimo perché partiamo dalla GLA, il SUV compatto che nasce appunto dalla piattaforma delle nostre vetture compatte. Arriviamo addirittura al GLS, l'ammiraglia del mondo dei SUV. GLC Coupe è una variante più sportiva, più bassa rispetto alla GLC tradizionale nel segmento dei SUV medi.